Oggi vi voglio proporre un video di chiacchiere, quindi non andrò a parlare di un film nello specifico, andrò come sempre a ruota libera per proporvi appunto un argomento che in qualche modo è ritornato anche sulla bocca di tutti dopo la recente uscita nelle sale, qui in Italia ma anche all'estero, di un nuovo capitolo di una saga ormai storica, una saga che è nata negli anni 80. Infatti proprio gli anni 80 ma anche gli anni 90 saranno al centro di alcune riflessioni che vi voglio appunto proporre. Prima di iniziare però come sempre iscrivetevi al canale, questa è la cosa più importante che potete fare per aiutare il canale a crescere ancora di più, lasciate anche il vostro mi piace, i vostri commenti, condividete il video ovunque vogliate così stimolerete un po' l'algoritmo di YouTube e farete arrivare questo video a quante più persone possibili ed infine vi aspetto anche su Instagram, su Facebook e nel mio canale Telegram. Trovate i link in descrizione. Detto questo passiamo però appunto a questo video di chiacchiere, a questo video di riflessioni sparse che voglio appunto condividere con voi dopo appunto la visione ormai qualche settimana fa di Ghostbusters Minaccia Glaciale. Un film che si va chiaramente ad inserire nell'ambito di quella che è la saga, il franchise dei Ghostbusters, chiaramente una saga, un franchise che è nato negli anni 80. Ricordiamo che il primo film è del 1984, il secondo film è dell'89 se non ricordo male, dopodiché chiaramente abbiamo dovuto attendere tanti anni, abbiamo dovuto attendere quasi 30 anni per avere il terzo capitolo, chiaramente senza considerare quello che è il Ghostbusters al femminile, fino ad arrivare appunto al quarto capitolo canonico, mettiamola così, della saga, che è uscito in queste settimane. E proprio l'arrivo in sala di questo film mi ha portato ad alcune conclusioni, ad alcune riflessioni, alcune delle quali le ho anche in qualche modo accennate nella recensione che appunto ho pubblicato nel mio canale sul film sui Ghostbusters, delle riflessioni che in realtà sono qualcosa di comune anche negli ultimi tempi, anche qui su YouTube, ci sono dei canali che hanno dedicato delle rubriche intere proprio agli anni 80, anche agli anni 90, perché? Perché è chiaro che negli ultimi anni, negli ultimi tempi, stiamo assistendo alla riproposizione, abbastanza continua c'è da dire, soprattutto negli ultimi tempi, di tutta una serie di film, tutta una serie di anche serie tv, tutta una serie di prodotti di vario tipo e soprattutto anche dei nuovi capitoli di saghe storiche, di saghe che sono entrate nell'immaginario collettivo nei decenni scorsi, che chiaramente affondano le radici negli anni 80 o appunto agli inizi degli anni 90. I Ghostbusters ne sono soltanto uno degli esempi che possiamo fare, basti ricordare anche, per esempio, Indiana Jones, l'ultimo capitolo che è uscito appunto nei mesi scorsi, Indiana Jones e il quadrante del destino, che in realtà a sua volta faceva seguito a quello che era il film del 2008, quindi già nel 2008, sì, più o meno, arrivava il quarto capitolo. Quindi una saga che continua comunque a prolungarsi nel corso degli anni, nel corso dei decenni, anche in quel caso, ovviamente, è una saga che è nata, cresciuta, si è sviluppata in maniera completa negli anni 80, dagli inizi degli anni 80 fino alla fine degli anni 80, con i tre capitoli storici, mettiamola così, della trilogia originale. Ma in realtà non è l'unico esempio, basti pensare anche, per esempio, a Terminator. Terminator, anche questa, è una saga che è nata negli anni 80, che probabilmente ha visto i momenti di maggiore splendore proprio negli anni 80, ma è una saga che nel corso degli anni, nel corso dei decenni, ha avuto ancora qualcosa da dire, poi in realtà fino agli ultimi anni, con dei film che secondo me sono nettamente inferiori rispetto a quelli che sono i capitoli iniziali, ma ripeto, non sono gli unici esempi, ce ne sarebbero da fare a tanti altri e li faremo nel corso di questo video. Allora, io mi sono dato una spiegazione, ho cercato più che altro di trovare una spiegazione a tutto questo, ed è una spiegazione anche abbastanza semplice e banale per me, cioè banale forse non da un punto di vista del significato di fondo, ma è banale da trovare, nel senso che chi, diciamo, è nato e è cresciuto tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi chi ha vissuto in pieno o tutti gli anni 80 o anche gli anni 90, fondamentalmente, al giorno d'oggi, rappresenta, con ogni probabilità, quella che è la fetta più ampia di pubblico al quale una casa di produzione, una casa di distribuzione si può rivolgere. È chiaro che al giorno d'oggi ci sono, ovviamente, come dire, delle differenze notevoli rispetto anche al passato, nel senso che al cinema oggi, soprattutto negli ultimi tempi, c'è da dire, un po' meno dopo, subito dopo la pandemia, ma soprattutto negli ultimi tempi, in realtà, al cinema vanno tante persone appartenenti anche a sfere anagrafiche diverse, dai bambini ai ragazzini, fino ad arrivare anche alle persone più grandi, però c'è da dire anche che chi è nato, cresciuto tra gli anni 80 e gli anni 90, rappresenta, al giorno d'oggi, probabilmente, la fetta più ampia o comunque la fetta di pubblico maggiormente in grado di rimanere coinvolta in quelli che possono essere i progetti cinematografici, perché si parla di persone che vanno dai 25-30 anni, più che alto, dai 30, fino anche a quasi 50 anni. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un nucleo corposo, costituito davvero di... costituito da persone che affollano in maniera maggiore le sale, si abbonano anche a quelle che sono le piattaforme di streaming, sono persone che hanno vissuto l'infanzia in quella fase, in quei decenni, e oggi, fondamentalmente, sono persone tendenzialmente indipendenti da un punto di vista economico, cosa che ovviamente non poteva essere negli anni 80 o negli anni 90. Siamo gli adulti, mettiamola così, che ancora non hanno raggiunto l'epoca della, diciamo, della vecchiaia, quindi siamo ancora nel pieno di quelle che potrebbero essere anche le nostre possibilità di spendere i nostri soldi, di poter fare ciò che desideriamo, fondamentalmente avere la possibilità di accedere anche a dei servizi con una facilità che non hanno chiaramente i bambini, ma non hanno probabilmente neanche le persone più grandi di noi, quindi c'è in qualche modo una convergenza di tutta una serie di aspetti che fa sì che ovviamente ci sia davvero un grande pubblico in grado di subire, mettiamola così, il fascino del passato. Ecco, c'è da dire che questo è qualcosa che succede sempre, periodicamente, con tutte quelle che sono le fasce di popolazione che possiamo prendere in considerazione, perché? Perché se io parlo con mia mamma, è chiaro che lei rimane in qualche modo incantata, per esempio, nel momento in cui si parla di qualcosa che appartiene alla sua infanzia, è ovvio, ci mancherebbe altro, però, per esempio, per le persone che hanno dai 60 anni in su, tendenzialmente questo io lo noto, per esempio, soprattutto con la TV, quindi con i prodotti televisivi, con i personaggi televisivi. Nel momento in cui in TV, per esempio, ripropongono una versione moderna, per esempio, di un programma che veniva mandato in onda o negli anni 60 o negli anni 70, ecco, quello che noto io è che questo riesce a fare presa su quello che è il pubblico over 50, over 55. Ed infatti, anche in questo senso, per esempio, la TV è un mezzo che al giorno d'oggi riesce, appunto, ad avere maggiore presa proprio, o meglio, la TV generalista, chiaramente, che riesce ad avere maggiore presa proprio sui over 50, a mio modo di vedere, gli over 55 addirittura. Per quanto riguarda, invece, il cinema, per quanto riguarda la distribuzione in sala, soprattutto, dei film, ecco, in questo caso mi viene da dire, e fatemi sapere, chiaramente, se siete d'accordo, la fascia di popolazione maggiormente coinvolta è rappresentata da coloro che hanno tra i 30, più o meno, e i 50 anni, quindi coloro che sono nati o cresciuti tra gli anni 80 e gli anni 90. Io rientro in pieno in questa categoria perché sono nato alla fine degli anni 80, è ovvio che c'è da dire anche che molte di queste persone, me compreso, non hanno avuto la possibilità, magari, di vivere in pieno quegli anni, non hanno avuto la possibilità di vivere in pieno molte delle saghe che sono nate in quegli anni. Io, per intenderci, i Ghostbusters, non li avevo mai visti al cinema, prima di qualche anno a questa parte, perché? Perché, come detto, il primo film è dell'84, io non ero ancora nato, il secondo film è dell'89 ed io ero davvero piccolissimo, quindi, chiaramente, non potevo andare al cinema per poterlo vedere, ma questo vale anche, ripeto, per il film di Indiana Jones. Io, i primi tre film di Indiana Jones, purtroppo, non li ho mai visti in sala, perché non li hanno più riproposti, o comunque, se li hanno riproposti, non ho avuto la possibilità di andarli a vedere. Facendo altri esempi, è chiaro che, per esempio, anche se vogliamo prendere in considerazione, ho già fatto anche l'esempio della saga di Terminator, stesso discorso, ma io qua me ne sono segnati alcuni, basti pensare anche a Beverly Hills Cop, quindi un piedi piatti a New York, del quale, tra l'altro, sta per arrivare anche il quarto capitolo. Io, i primi tre film, non li ho vissuti in pieno, chiaramente li ho visti successivamente, li ho visti attraverso le VHS, poi, chiaramente, anche attraverso l'On Video più recente, ma non l'ho vissuta in pieno, quella saga, quella trilogia, un po' quello che è successo anche per Karate Kid. Karate Kid è figlio degli anni 80, poi sarebbe arrivato anche un film degli anni 90, se non ricordo male, quello con Hilary Swank, ma anche qua. È chiaro che la saga si è sviluppata, ha trovato il suo massimo splendore negli anni 80, e anche di Karate Kid, ricordiamolo, negli ultimi anni abbiamo avuto la presenza di un prodotto seriale, Cobra Kai, che fondamentalmente è figlio di Karate Kid. Ora, io non l'ho visto, quindi non ho visto quella serie TV, quindi non ne so parlare nel dettaglio, però anche qui è chiaro che quella serie, per quanto abbia avuto la possibilità, probabilmente, di arrivare anche ad un giovane pubblico, grazie al fatto di essere stata distribuita su Netflix, non vorrei sbagliare, ma è ovvio che parla, si indirizza in maniera molto più marcata a tutti coloro che hanno amato, a tutti coloro che hanno vissuto Karate Kid come saga. Poi, ripeto, è chiaro che poi il tutto si va ad amplificare al giorno d'oggi, grazie alla presenza anche di strumenti, grazie alla presenza di media che negli anni 80 non esistevano, le piattaforme di streaming, ma in realtà ci sono anche dei tentativi di tipo autoriale in tutto questo. Mi viene per esempio in mente Blade Runner, Blade Runner, chiaramente film figlio degli anni 80, chiaramente il film di Ridley Scott dell'82, chiaramente poi è un film che, tra l'altro, non è che abbia avuto questo grande successo commerciale negli anni 80, perché, per tutte le motivazioni che sappiamo, perché probabilmente in quel momento c'era anche una fase di cambiamento in quella che era la percezione del pubblico nei confronti dei film di fantascienza, ricordiamo anche la cosa di John Carpenter che ebbe lo stesso destino, a differenza, per esempio, di E.T., che invece ebbe un grande successo, ma Blade Runner, per intenderci, è un film che ha avuto una sorta di figlio a lungo termine, cioè il Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, che ha cercato, in qualche modo, di riportare sullo schermo quella che era l'idea originaria di Ridley Scott e quella che erano le atmosfere del primo Blade Runner, chiaramente anche con quella che è la sua visione, tanto che, infatti, Blade Runner 2049 è un film molto diverso dal primo, ma credo che, per quanto riguarda Blade Runner 2049, anche lì il primo impatto, come dire, più devastante lo abbia avuto sulle persone nate tra gli anni 80 e gli anni 90. Poi, in realtà, il film arrivava anche ad altre, come dire, ad un'altra grande fetta di pubblico e qui, chiaramente, entra in gioco anche la componente autoriale, la componente anche commerciale di Denis Villeneuve, un regista che, chiaramente, fa sempre parlare di sé, ma anche lo stesso Dune, fondamentalmente. Se noi consideriamo Dune, è chiaro che è un film che, da un punto di vista cinematografico, sì, chiaramente ha una prima trasposizione negli anni 80 che, però, non ha avuto successo, ma è un film che risponde a tutta una serie, anche qui, di criteri, a tutta una serie anche di, mettiamola così, anche rimandi che sono figli degli anni passati, degli anni 70, ovviamente, anche degli anni 80. Quindi, sono tutta una serie di ulteriori dimostrazioni dimostrazioni di quanto gli anni 80, ma anche gli anni 90, c'è da dire, riescano a fare presa. Per intenderci, il film, quello, diciamo, il film delle Tartarughe Ninja in animazione, quindi Tartarughe Ninja, Chaos Mutante, è ovvio che anche qui vada a toccare delle corde che sono particolarmente sensibili, in quel caso, soprattutto per chi è nato e cresciuto negli anni 90, il sottoscritto. Io sono nato alla fine degli anni 80, quindi gli anni 80 non li ho vissuti in pieno, ma ho vissuto in pieno gli anni 90, quindi con quelle che era la serie d'animazione delle Tartarughe Ninja, i film in live action delle Tartarughe Ninja, poi sarebbero arrivati anche i film dei primi anni 2000, 2006, 2007, se non ricordo male, ma quelli tendo a, in qualche modo, diciamo, metterli da parte, ma, chiaramente, Tartarughe Ninja, Chaos Mutante, per quanto sia un film figlio dei suoi tempi, perché è un film straordinariamente attuale anche per quelle che sono le tecniche d'animazione, ma, e quindi vuole arrivare anche ai giovani di oggi, ma, ovviamente, strizza l'occhio, fa l'occhiolino a chi è nato e cresciuto negli anni 90. Quindi, ulteriore esempio di quanto questi periodi, di quanto questi decenni, al giorno d'oggi, risultino essere particolarmente influenti. Ora, l'altro esempio più eclatante che mi viene in mente è una serie TV, Stranger Things. Stranger Things è stata in grado di creare un fenomeno di massa, di proporzioni, secondo me, neanche prevedibile all'inizio. È diventata una delle serie più famose negli ultimi vent'anni, ne parlano tutti, la conoscono tutti, probabilmente l'hanno vista tutti, non so, ed è chiaramente una serie TV figlia degli anni 80, con tutta una serie di atmosfere, easter eggs, rimandi, citazioni, tutto quello che abbiamo in Stranger Things è figlio degli anni 80. Quindi anche lì si risponde ad una sorta di quasi esigenza nostalgica di riportare in vita qualcosa che ovviamente non appartiene più ai giorni nostri. Perché? Perché gli anni 80 e anche gli anni 90 erano un periodo completamente diverso da quello che stiamo vivendo oggi e ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire, con tutte quelle che sono le innovazioni tecnologiche, con quello che è anche il diverso modo di vivere la vita da parte nostra che è differente da quella degli anni 80 e non è un problema soltanto di visione nostalgica, no, come dire, ci sono dei dati oggettivi che ci permettono di fare delle differenze, di vedere, di trovare delle differenze nette tra il giorno, come dire, il periodo degli anni 80 e degli anni 90 e quello che è invece il periodo attuale. Ma sarebbe davvero banale anche doverlo dire. Semplicemente le tecnologie e gli strumenti digitali, tecnologici che abbiamo oggi a disposizione negli anni 80 potevano essere soltanto una lontanissima fantasia, oggi invece li diamo per scontato. Ora, voglio fare anche degli ulteriori riferimenti, basti pensare anche al fatto che tra qualche mese dovrebbe, dovrà arrivare in realtà Beetlejuice 2. Ora, non ricordo il titolo spreciso, credo sia Beetlejuice, Beetlejuice, e anche qui è ovvio che si sta parlando di un sequel, di un film che è figlio in pieno degli anni 80. il primo Beetlejuice è diventato nel corso degli anni un cult generazionale, è stato in grado di, come dire, imprimersi nella memoria collettiva, soprattutto di chi è nato e cresciuto tra gli anni 80 e gli anni 90, tanto che infatti a volte quello che poi succede quando cominciano ad avere, cominciano a, come dire, ad affollarsi questi progetti di sequel, di remake, di tutto quello di reboot, la prima domanda che ci si chiede, e cerchiamo anche di arrivare ad una conclusione per questo video è, ma ce n'è davvero bisogno? C'è davvero bisogno di avere questi film o queste serie tv che strizzano palesemente l'occhio a quel periodo? Ora, la risposta che io mi sono dato è fondamentalmente identica alla risposta che mi do in generale quando viene prodotto un film. No, è chiaro che non ce n'è bisogno se noi pensiamo a qualunque tipo di film è, come dire, è fondamentale prendere in considerazione che nulla è necessario, nulla è, di, come dire, di fondamentale importanza quindi, a maggior ragione nel momento in cui facciamo i conti con dei sequel, dei remake, dei reboot, di progetti o di saghe o di franchise che sono figli degli anni 80 a maggior ragione basti pensare anche a Top Gun Maverick non ce n'era bisogno non c'era bisogno secondo me di avere una storia in continuità con quello che era il film degli anni 80 non ce n'era bisogno ma Top Gun Maverick è stato uno dei più grandi incassi degli ultimi anni tra l'altro con la straordinaria lungimiranza di tutti coloro che sono entrati anche a far parte del progetto a partire anche dallo stesso Tom Cruise che hanno voluto attendere la distribuzione in sala perché il film poteva anche tranquillamente arrivare nelle piattaforme di streaming e lì ritroviamo anche un ulteriore elemento a conferma di ciò che ho detto potevano anche distribuire il film in streaming probabilmente come dire avendo comunque un successo non dico paragonabile ma avendo la possibilità lo stesso di poter in qualche modo anche ritornare ad avere cioè avere dei ritorni economici sostanziosi hanno voluto attendere la distribuzione in sala perché? perché sapevano che in sala ci sarebbe stato un afflusso maggiore probabilmente del normale grazie a tutti coloro che hanno amato che sono cresciuti con Top Gun poi non entro nel merito di quella che è l'effettiva qualità del film ma siamo andati tutti a vedere Top Gun Maverick quindi c'è poco da fare hanno avuto ragione lo stesso discorso ripeto si può fare con tanti altri film che probabilmente non hanno avuto lo stesso successo perché l'ultimo Indiana Jones è stato un flop per intenderci oppure anche diciamo gli alien che si sono succeduti nel tempo stesso discorso lì siamo quasi a cavallo tra gli anni 70 però io alien lo considero anche lui figlio degli anni 80 perché arriva nell'ultimo anno del 70 nel 79 poi mi ero segnato anche altre cose per esempio anche Il colore viola Il colore viola è un film di Steve Spielberg degli anni 80 e chiaramente è arrivato il remake credo perché non l'ho visto credo sia appunto un remake in Salsa Musical un anno fa quindi anche lì è ovvio che si vuole toccare alcune corde di persone che hanno amato il film degli anni 80 con WP Goldberg e che probabilmente hanno avuto il desiderio di reimmergersi in quelle atmosfere quindi ripeto è tutto un come dire un progetto di come dire di proporzioni gigantesche quello che appunto riporta in vita tutta una serie di franchise che chiaramente tocca corde dell'anima nostalgica di tantissime persone chiaramente con scopi molto spesso di natura commerciale potrà avere lunga vita tutto questo non credo proprio non credo che tutto ciò durerà ancora per tanto tempo tanto che infatti Stranger Things per intenderci come dire vedrà l'ultima stagione e quindi poi andrà verso la chiusura l'ultimo Indiana Jones è stato un flop tutta una serie di ulteriori film che purtroppo non stanno avendo il successo sperato a parte Top Gun Maverick ma quello credo sia un'eccezione che non credo faccia come dire la regola anzi tutt'altro Ghostbusters minaccia glaciale anche qui non è che stia avendo un come dire la possibilità di avere grandi incassi e quindi si configurerà come l'ennesimo flop quindi io sono dell'idea che bisogna in qualche modo rimodulare anche tutto quello che può essere l'intento di toccare appunto tasti nostalgici perché l'effetto a poco a poco sta cominciando a sbiadire non so perché probabilmente perché stiamo anche noi crescendo probabilmente perché ne abbiamo anche fin troppi di questi film ne abbiamo avuti fin troppi di questi tentativi appunto di rievocare gli anni 80 quindi è probabile che nei prossimi anni cominceremo ad avere dei film delle serie tv che invece sposteranno un poco più avanti quella che è appunto la come dire il tentativo di rievocare ricordi nostalgici quindi aspettiamoci nei prossimi 7 8 10 anni qualche film che andrà invece a riportare in auge franchise saghe film degli anni 2000 quindi cominciamo già ad entrare nella fase in cui i giovani adulti sono coloro che invece sono nati negli anni 2000 fondamentalmente perché siamo nel 2024 che è nato nel 2000 o alla fine degli anni 90 fondamentalmente comincia ad avere 23 24 25 anni quindi fra 7 8 9 anni fra 10 anni fondamentalmente vivranno la nostra stessa situazione quindi aspettiamoci che tra 10 anni ma secondo me anche di meno inizieremo ad avere remake reboot sequel di quelli che invece sono stati i film che hanno spopolato negli anni 2000 e cominciamo ad avere anche i primi segnali perché se non ricordo male dovrebbe arrivare il nuovo capitolo di quello che è il franchise di Bridget Jones quindi per intenderci qualcosa che è nato negli anni 2000 e inizia ad avere come dire le prime inizia a seminare i primi come dire inizia a seminare i primi semi scusatemi il gioco di parole per poter in qualche modo germogliare tra qualche anno e attecchire su una fetta di pubblico che chiaramente oggi potrebbe essere come dire difficile da da poter attirare anche in sala ma tra qualche anno no tra qualche anno loro quindi chi è nato tra o voi chiaramente tra chi sta ascoltando chi è nato alla fine degli anni 90 o gli inizi degli anni 2000 sarà in grado di diciamo lasciarsi andare alle stesse agli stessi richiami nostalgici che stiamo invece vivendo noi coloro che siamo nati tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 ed è un fenomeno secondo me generazionale che si ripeterà anche nei prossimi anni e nei prossimi decenni fatemi sapere voi che cosa ne pensate vi siete stancati di questi richiami nostalgici agli anni 80 agli anni 90 oppure qualcosa che pensate possa continuare vi piace in qualche modo reimmergervi in queste atmosfere oppure invece vi siete stufati e non volete più sentirne parlare fatemi sapere la vostra opinione il vostro parere su questo argomento qui sotto nei commenti perché vi leggerò davvero con molta molta curiosità questo era quello che volevo appunto raccontarvi la mia idea la mia percezione di tutti questi progetti a sfondo nostalgico io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo iscrivetevi al canale fondamentale importantissimo davvero se siete capitati qui per caso se guardate i miei video senza essere iscritti beh iscrivetevi perché aiuterete il canale a crescere ancora di più lasciate il vostro mi piace commentatelo condividete il video ovunque vogliate vi aspetto anche su instagram su facebook nel mio canale telegram trovate i link in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti